di diffusione del virus. Ho letto anche questo in giro, mi sembrava un po' strano. Grazie. Grazie per la domanda. Parto dalla seconda anche perché la risposta, oltre a essere facile a darsi, l'ha già largamente anticipata. Lei, insomma, sinceramente non credo che la sfera di cuoio possa rappresentare un veicolo che contribuisce alla diffusione nell'ambito dei 22 calciatori più eventuali, più eventuali altri, sei che entrino, tre per parte, più la terna arbitrale per la diffusione appunto di SARS-CoV-2. Anche qui ovviamente va fatta sempre una riflessione, una comunicazione che sia solida e sinceramente questa mi sembra un po' poco solida. Grazie a tutti. Grazie a tutti.